Gli europei di calcio entrano nel vivo, da oggi cominciano i quarti di finale, dunque dalle otto le squadre diventeranno quattro e si comincia questa sera, però sabato sarà l'appuntamento più importante per i tifosi e per gli azzurri. Un appuntamento importante al quale l'Italia si avvicina con un grande dubbio, quello di poter utilizzare De Rossi davanti alla difesa, De Rossi che ha subito un duro colpo alla coscia, probabilmente non riuscirà a recuperare così come non recupererà quasi sicuramente Candreva, però ormai abbiamo visto che questa Italia sulle ali dell'entusiasmo è in grado di raggiungere qualsiasi risultato. Un peccato però davvero che venga a mancare una pedina fondamentale nello schieramento tattico, non parliamo tanto di un nome che era quello di De Rossi o quello di Tiago Motta che è squalificato, ma una pedina fondamentale proprio per lo svolgimento tattico in chiave Italia edizione Conte. Non c'è Marchisio, non c'è Verratti, insomma sembra quasi una maledizione, Marchisio e Verratti fermati prima dell'inizio della convocazione e ora gli altri, però questa Italia secondo me può andare oltre anche le maledizioni. Grazie. Grazie.